Anni fa abbiamo scritto un manifesto per raccogliere quelli che sono i nostri valori e le motivazioni che ci spingono a fare quello che facciamo. Uno dei punti di questo manifesto è condividi ciò che fai. Da questo nasce la QB Academy, l'idea che le esperienze che noi viviamo in cantiere, tutto quello che impariamo e sperimentiamo possa essere e diventare insegnamento utile non solo per noi ma anche per altre professioniste e professionisti che come noi vogliono usare e usano i materiali naturali. Un altro dei punti del manifesto è collabora e non competere. È proprio con questo spirito infatti che ci occupiamo di formazione. L'idea che sempre più persone diventino esperte di materiali naturali non ci spaventa, al contrario siamo felici di avere professioniste e professionisti con i quali collaborare e con i quali condividere i cantieri. Se questi punti ti risuonano e se ti risuonano i nostri valori e ti piacciono i materiali naturali puoi approfondire che cos'è la QB Academy sul nostro sito.